Poi mi toccherà mangiare e bere Anzi, facciamolo già subito Allora Mo io facciamo così Ah, io adesso mi metto la di azione Mi sa che non me lo era messo però la carta E mangiamo, non sta roba Cibo Mettiamo questo Ok Ok, sembra che se tu cuoci il cibo Poi non ti possa dare malattie, credo Non lo so No Non voglio Allora Rimettiamoci il talento di prima E non ho altri talenti, ok, perfetto Ok, torniamo a noi a esplorare Verso l'aeroporto per esplorarlo Ho un po' di radiazioni ma Non spreco un radaway così Vediamo se c'è qualche giocatore nei paraggi Uno, due, tre, quattro, cinque Sei, sette Vorrei capire effettivamente se sono solo 26 i giocatori che è possibile avere in sessione Un po' misero come numero secondo me Cioè se sarebbe stato possibile io avrei fatto magari una sessantina di giocatori Se sarebbe stato molto più bello E nonostante sia post-apocaliti comunque Eravamo un minimo di persone in quel vault insomma Mi sta già riscendendo la sete Credo che correre davvero non faccia molto bene Mi faccio una sgrotta Erante e ardente Dov'è? E' una miniera Porca troia Fanculo va Radaway Dove sta? E che hanno tolto Per renderlo realistico hanno tolto il cazzo di radar Che cazzo è successo qua la grafica? C'è una divisione a caso E' scomparso un arante comunque Attenzione Aia Dov'è? C'è un altro Che cosa succede? Esattamente uno stimpa che me lo faccio Riempie così tanto la vita? Seriamente? Molto buono Che è quel coso? E' il sole che passa attraverso la montagna Credo Vabbè Abboiamolo E' una beta Vediamo se c'è qualcosa di utile qui dentro Piccone Guarda come arma Prendiamo va Tutte le armi di gesso Quanto fa? Minchia 34 il piccone Guarda che figo Ci sta Polvere da sparo Non mi ricordo Cos'altro si viene insieme Una polvere da sparo Sinceramente però Fare i proietti Lampada da minatore Ma serve? Cioè posso può farmi luce? O non ha senso? Sa che non ha senso Così così possono saltare in aria Birillo è usato da neo A caso Manco da lavoro per le armi Oh coltura da combattimento Quanto fa di danno? No non ha senso C'ho il piccone L'arma più forte Finora che ho trovato Di colpo a corte Temo questo Fin quando si può salire qui? Carne Eh La birra Forse è da prendere Sapete? Perché Credo che mi riempia comunque La barra Di Di idratazione Non devo bere Una troppa di fila Perché credo che dia La La Alcolismo Tipo Quindi Ma questi che? Si stavano bevendo la birra Quando è E' scoppiata La bomba Mi sa di si Mi sa che erano di minatori E' scoppiata la bomba Mentre prendevano la birra In pausa Che ne so E' sono morti Sapete che non so se Entrare all'interno Dentro dentro Perché magari E' un Brutto luogo Quino di robe brutte Sparo Sì però Andiamo a usare Il metto da Un minuto Il metto Dov'è? Ah c'ho il braccio destro di fuori Ah ce l'avevo già Eh però quello di quello è meglio No non dà difesa Il cappello Il metallo Quello l'ha Che dite? Andiamo a dare un'occhiata alla miniera Vai su Tanto è sulla strada praticamente Tanto vale dareci un'occhiata Che ore sono però Gli eventi Ok abbiamo tempo Ok credo che ci saranno dei Eccoli Manco a dirlo apposta C'è un leggero lag Oh cazzo Sono meno mato Osare Porca troia Ma sono fatte malissime Le Le hitbox Del corpo a corpo Ma Non capisco Credo stia laggando il gioco Capisce Sì prendilo Tanto Uh cassaforte Non avevo notato prima No mi si vede più la live Sperando che quello Mono venga a prendermi Non avevo notato prima 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 Non avevo notato prima